A Omenia si parla a Bavarese nella fine settimana, la terza edizione dell'Octoberfest, alla Forum Musica, Cibo e Divertimento adatto a tutti, famiglie e bambini. Sì, si è diventato ormai un cult quello dell'Octoberfest a Omenia, visto che è la terza edizione. Lo svolgimento è quello classico, quindi la musica, il buon cibo, secondo appunto la tradizione bavarese, naturalmente la birra. Abbiamo quest'anno però una novità, abbiamo sviluppato la domenica un po' più per le famiglie, per cui avremo a mezzogiorno un risotto alla birra, cucinato dall'Allegra Brigata. I cuochi che ci hanno sostenuto anche durante i Summer Games tornano ad aiutarci, visto la buona collaborazione che c'è stata, e quindi ci cucineranno questo ottimo risotto alla birra. Subito dopo avremo l'animazione da parte del Forum, del Ludo Club per i bambini fino alla sera alle 8 e poi proseguiremo con l'aperitivo in musica, poi ci sarà di nuovo la cena, la musica e per concludere, diciamo per i più giovani, i DJ set che concluderanno tutte e tre le serate. Grazie. Grazie.